In piazza 4 Novembre, quindi nel centro storico per eccellenza, verranno installate 20 biciclette ad utilizzo di tutti i nostri concittadini, ma a maggior ragione delle società sportive che coinvolgeremo in una vera e propria challenge, perché anche noi, anche loro, possano accendere il Natale ad Albenga. Quindi un'attenzione rispetto al risparmio energetico che oggi è dovuta, ma senza per questo spegnere il Natale e dando quindi il nostro contributo come città al commercio e al turismo.